Alla vigilia del primo maggio, festa dei lavoratori, torna in attualità la questione degli infortuni sul lavoro messa in evidenza da un rapporto dell'INAIL. L'ultimo caso di morte sul lavoro in Liguria si è verificato a Genova meno di un mese fa, dove a perdere la vita è stato un operaio rocciatore di 39 anni, precipitato da 20 metri d'altezza in una cava connessa ai cantieri del Terzo Valico. I dati INAIL mostrano che nel 2018 le denunce di infortunio sono state 20.618 con un meno 1,5% rispetto al 2017 e 43 morti sul lavoro, 12 dei quali legati alla tragedia di Ponte Morandi. La Liguria resta con la maglia nera in Italia per gli incidenti relativi alla strada e al tragitto casa-lavoro, con una percentuale di infortuni quattro volte superiore alla media nazionale. Se si analizzano i settori più a rischio, guidano il triste primato trasporto e magazzinaggio con il 10% delle denunce al pari del settore dell'edilizia. Inoltre aumentano gli infortuni da parte di donne lavoratrici, per le quali, secondo gli studi, oltre al peso del lavoro, influisce anche quello della conduzione familiare. Federico Pezzoli, segretario generale della Fillea CGL Genova, il sindacato dell'edilizia, ha chiesto che venga introdotta nella legge l'aggravante dell'omicidio sul lavoro, così come è stato fatto per l'omicidio stradale. Solo in Liguria sono 5.000 gli iscritti alla Cassedine, numeri praticamente dimezzati negli ultimi dieci anni a causa della crisi e, secondo i sindacati, molti sfuggono a qualunque statistica perché assunti come partite IVA e persino come vivaisti.